Nel paese della terra di mezzo, la leggenda narra di Sauron, l'oscuro signore, e dell'anello che gli avrebbe dato il potere di rendere schiavo il mondo. Smarrito per secoli, è stato cercato da molti, e ora è finito nelle mani della persona più improbabile che si possa immaginare al mondo. A Sauron occorre questo anello per avvolgere la terra nell'oscurità. Cosa devo fare? L'anello deve essere distrutto. L'anello va gettato tra le fiamme del Monte Fatto. Lì c'è un essere maligno che non dorme. Le forze di Sauron già si muovono, troveranno l'anello e uccideranno chi lo porta. Andate! Frodo! Frodo, Frodo! Non posso farcela da solo. Hai la mia spada. E hai il mio arco. E la mia ascia. Questo incarico è stato affidato a te, e se tu non troverai il modo, nessuno lo farà. Il nemico ha molte spie, gli uccelli, le bestie. Qualcosa si avvicina, lo sento. Allontanatevi! Via! Ricorda Frodo, l'anello sta cercando di tornare dal suo padrone. Lui vuole essere trovato. Speriamo che la nostra presenza passi inosservata. Arrivano. Dobbiamo tornare indietro! No! Se l'anello non fosse arrivato a me... Indietro, malvati! Se questo non fosse mai accaduto... Troverai il coraggio. Se lo vuoi, vieni a reclamarlo. Troverai il coraggio. Lo vuoi, vieni a direnciare il coraggio. Speriamo inserzata il coraggio. Allora, la mia ascia. Ciò che ho fatto, dell'anello non fosse arrivato a me... Speriamo inserzata il coraggio.